Padre Enello torna all'appuntamento più atteso per la comunità di Capodorlando, ovvero sia la festa di Maria Santissima. È veramente la festa più importante per Capodorlando che chiude tutte le feste d'altronde. E noi ci affidiamo a San Giuseppe e alla Madonna proprio perché le nostre famiglie possano crescere nella serenità, nella pace e respirare quell'aria di fede che è importante per trasmettere alle generazioni future la nostra fede. Come si svolgerà il programma sabato e domenica? Abbiamo degli appuntamenti importanti. Per sabato ci sarà l'incontro con le comunità di Naso. È sempre un appuntamento abbastanza sentito e da quando San Cono è sceso a Capodorlando e la Madonnina è salita a Naso si sono rafforzati questi legami tra le due comunità. e gli appuntamenti della festa sono sempre tradizionalmente i soliti. A ogni ora, a partire dalle ore 6, ci sarà la celebrazione dell'Eucaristia che si conclude con la benedizione della città e poi la processione della Madonnina dal santuario alla Chiesa di Cristo Re. L'invito è quello di essere partecipi perché la Madonnina protegge Capodorlando. Ricordo che il monte è stato sempre un punto di riferimento per le generazioni passate. Auguriamo che le generazioni future possano mantenere sempre questo legame con la Madonna perché un tocco di fede nella nostra vita soprattutto con i problemi, le difficoltà che dobbiamo affrontare da quella speranza, quella fiducia interiore che ci permette di vivere con la certezza che se il Signore è con noi saremo capaci anche di dare buona testimonianza della nostra crescita non solo umana ma anche cristiana. È una festa in cui si mischia il sacro con il profano ma l'importante è comunque viverla con gioia. Io non farei tanto la distinzione tra il sacro e il profano ma è la realtà umana che manifesta il suo essere inserito nella società ma che fa parte e appartiene al Signore.